ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono lori frost e oggi finalmente siamo sul video degli speciali 10 iscritti ragazzi ringrazio tutti gli iscritti al mio canale specialmente i miei amici lori 26 sm fra e per questo video volevo partire un piccolo contenuto speciale ci ho messo molto e quindi oggi finalmente andremo a comprare la principessa ho avuto un bel po di fortuna a trovarla oggi nel negozio perché volevo portarlo oggi in questo video degli speciali 10 iscritti però non sapevo se usciva la principessa e invece è uscita prima di tutto andiamo ad aprire il baule omaggio e dopo andremo a comprare la principessa e a provarla in delle partite online baule d'oro arcieri diante ringrazio il mio clan che siamo arrivati al baule a livello 7 penso che domani lo abbiamo finito e ora è il momento andiamo a comprare la principessa mi raccomando ragazzi voglio almeno 10 like almeno 10 se ce la fate 3 2 1 vai abbiamo comprato la principessa questa è la nostra quinta leggendari il minatore baule leggendari baule omaggio per il boscaiolo abbiamo comprato la principessa e qua c'è lo stregone di ghiaccio baule omaggio e abbiamo comprato anche lo stregone elettrico 40.000 andati via prossima tarsala il tronco direi di metterlo qui al posto del stregone e andiamo subito a fare la nostra prima partita come vedete siamo a 3020 in arena leggendaria ho scalato un po ieri così almeno nel negozio poteva avere magari qualche leggendari vediamo quanto danno fa 140 ok ok direi di partire di principessa ok è già morto ok direi di buttare perfetto dai che lo prendiamo ok mettiamo questo lo sapevo tanto che che lo aveva ok morto non ha la scarica domatore improvviso mamma mia con dietro i due stregoni zappo ok perfetto un po di danno l'abbiamo fatto uccidiamo gli sgarri ok beh siamo partiti non male ok al boscaiola il tre madonna fortissimo c'è al boscaiola il tre sto qua che non mi buttare il tronco ah no strogane di ghiacci ok attacchiamo di domatore lui ha lorda di schereto perfetto ma mettiamo la principessa che si è salvata lui metterò qui una bella strega e invece no ok ancora viva la principessa dai muori perfetto ok non male sta partita ok tanto sono morti ormai ed è ancora viva la principessa ok uccidiamo con l'abbiamo buttata giù e finiamo con una vittoria per noi mamma mia già si sente che è forte la principessa nel deck anche la stregone di ghiaccio sono le mie due leggendari preferite ok 3050 doniamo il nostro clan e direi che possiamo andare a fare la seconda partita penso che tre partite un'altra adesso una e un'altra dopo penso bastino se no non riusciamo anche a meno che non riusciamo a fare anche un'altra partita per aprire il baule a corona no ok no basta lui ok attacchiamo perfetto guarda lui mamma mia uccidiamo con la stregone no qui basta uno scarico perfetto sul domatore ok morto adesso direi di mettere qua dietro lo stregone di ghiaccio ahia ho sbagliato no però no anzi no perché lì dietro non ci passa qua dietro ma lui c'è arrivato il carminatore domatore scarico adesso principessino neanche ok mi sa che questa abbia un pesce difficile quello c'è arrivato ora no invece si che è morto lo so lui mi metterò come non so che eccezionale 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 un po' di colpi li abbiamo andato però adesso si mette il ecco quello mi provo eccezionale si poi anche si vabbè adesso si poi mi ha messo anche altra Gesù adesso vabbè principessa è già morto vabbè sta partita l'abbiamo perso vabbè va bene va bene sta partita l'abbiamo perso una vinta e una persa ok siamo a 8 minuti e 30 direi che possiamo farne anche un'altra tanto mi raccomando lasciate tanti like e iscrivetevi al mio canale e se volete potete anche commentare su nuovi video e contenuti da portare sul canale muori perfetto quello muore già ma non è un altro perfetto ok adesso direi di andare di strano elettrico si eh volevi vada come voleva lui volevi devo stare attendo il mio principesso infatti è morto perfetto mamma mia dai si dai che recuperiamo un po' fa davvero male al cimitero non è male al cimitero è anche fatta però io non la so usare mi sa che ci toccherò cambiare per usare la principessa adesso lui usa la gelo vero lo sapevo che guarda lì 88 di vita adesso lui ci scommette usa il tronco la usa adesso però me la manca la principessa invece non la prende uccidi boia mancato male adesso lui ha la principessa cosa usare la guarda di scherzo morto c'è anche quello pura la mano guarda boom ok con la torre buttata giù con la adesso lui ha la cimitero attacchiamo si attacchiamo oh mi è mancata la principessa tanto lei spazza lei qua io sono doppia principessa doppia principessa mamma mia inaspettatamente che un po' di male mi ha fatto mi metto quella lì così muore male questa partita finirà in pareggio probabilmente lui non riesce più a mettere la guarda di scherzo non gli convene tanto scatto felino no ho sbagliato ho messo la principessa dai dai oh mamma mia lui mette boio qua gelo così a casa va bene abbiamo pareggiato ok una corona per il clano grazie mille ho fatto ok e ragazzi direi che il video può finire qui lasciate tanti like e mi raccomando iscrivetevi al mio canale anche a quello di Lory26SMFRA commentate per nuovi episodi e contenuti ci vediamo al prossimo video bella raga ciao ciao